Workshop a Casa Luzzati Sono a Genova e ho saputo che c'era questo workshop a Casa Luzzati nel Cantiere delle Arti, che è un vero e proprio laboratorio nel quale ti insegnano le tecniche del maestro. Per me è un piccolo grande sogno che si realizza. Era un workshop dedicato agli adulti, ma sono venuti con me anche i miei nipoti. Il workshop aveva come protagonista pulcinella e il pesce magico e abbiamo fatto tutti i passaggi per la realizzazione di una sagoma in stile Luzzati. Per la prima volta ho utilizzato il traforo e ora ne voglio subito uno. Quindi, dopo aver tagliato la sagoma in legno, l'abbiamo dipinta di bianco. Dopodiché abbiamo tracciato i bordi del disegno con una matita e poi abbiamo cominciato a inserire della carta con la tecnica del collage. Ci hanno guidato in questo percorso artistico Francesca e Antonio, che sono stati veramente molto bravi. Il passaggio successivo è quello di definire i tratti del disegno con un pastello ad olio e poi abbiamo composto la nostra figura. Io mi sono davvero emozionata. È stato bellissimo e se è capitato a Genova fate un salto a casa Luzzati perché ci sono un sacco di laboratori in cantiere. Ciao ciao!